I 5 Stelle vogliono vietare il falò di Sant'Antonio e il falò ai fuochi di quelle che sono le feste popolari e tradizionali del nostro territorio lombardo. Questa richiesta per noi della Lega è una richiesta strampalata. I fuochi, i falò a partire da Sant'Antonio sono assolutamente delle iniziative tradizionali che non hanno mai creato nessun problema a nessuno. I 5 Stelle evidentemente hanno ben altro a cui pensare rispetto a quelli che sono i veri problemi concreti come il lavoro e l'occupazione. E non sapendo più a cosa appigliarsi tirano fuori queste iniziative che sono del tutto, lo ripeto, strampalate. Noi della Lega diciamo subito no e siamo certi che l'assessore Terzi rispedisce al mittente la richiesta.